ciao ragazzi in questo video non vi parlo come al solito di equipment per fonici ma vi voglio parlare della mia cassa e testata proamp un marchio italiano che ho conosciuto l'anno scorso e del quale ne sono molto soddisfatto in questo video voglio parlarvi dei motivi per i quali sono passato da cassa e testata aguilar a cassa e testata proamp e quindi i motivi per i quali secondo me dovreste andare in negozio a provarla io nello specifico utilizzo una testata proamp z 550 e due casse un per dolci con coni neodimio ogni cassa della proamp potete sceglierla con coni neodimio o in ceramica quella in ceramica non li ho mai provati però immagino che abbiano un suono un po più scuro e pesano tre chili in più ora partiamo con i motivi per i quali sono soddisfatto il mio acquisto e per i quali non tornerò all'aguilar che comunque è un ottimo marchio e ha davvero un ottimo sound motivo numero uno la cassa proamp un per 12 con coni neodimio pesa solo 12 kg quindi sono molto trasportabili per non parlare la testata che non pesa nemmeno due chili pesa più o meno un chilo e mezzo motivo numero due le dimensioni le dimensioni della cassa un per 12 sono 45 per 35 per 44 quindi molto comode da trasportare motivo numero 3 l'assistenza il fatto di comprare un marchio italiano permette di avere assistenza direttamente con il marchio ad esempio a me mi l'assistenza che è stata davvero molto efficiente e molto rapida anche perché era un periodo in cui avevo diversi concerti e quindi rimanere senza testata era davvero un problema il volume se paragone il volume della mia cassa un per 12 pro amp è davvero molto più alto della cassa un per 12 che avevo dell'aguilar mi permette sui locali al chiuso di portarmi solo una cassa è davvero molto comodo onestamente me la sentirei di portare solo una cassa anche sui palchi un po più grandi ad esempio i palchi delle sagre però dato che c'è spazio mi piace portare comunque due casse e insieme due casse un per 12 alla proamba hanno davvero un ottimo sound motivo numero cinque la testata pro amp a differenza della th 500 ci permette di regolare il volume che mandiamo il fonico quindi senza che dobbiamo minimamente penalizzare il gain della nostra testata cosa che mi succedeva sulla testata aglar ultimo motivo ma il più importante di tutti è il sound nonostante la cassa pesi solo 12 kg ha davvero un sound fantastico e quando metto come dicevo prima le due casse un per 12 vicino ho davvero un sound fantastico sul palco dei bassi davvero equilibrati e molto molto belli potrei fare qualche video per farvelo sentire ma ci sono già online diversi video tra cui quelli di andrea zaccheri e vi consiglio andarli vedere ma vi consiglio soprattutto di andare in negozio a provare questa o questo fantastico marchio vi saluto e ci vediamo il prossimo video ciao